buongiorno e benvenuto su amazon pay questo video illustra come scaricare un report sui pagamenti accedi a seller central con il tuo account venditore amazon payments seleziona amazon pay vista produzione dal menu a tendina accedi al menu clicca su report quindi clicca su pagamenti per visualizzare tutti i dettagli delle transazioni clicca su tutti gli estratti conto il report sui pagamenti tiene traccia delle transazioni avvenute in un determinato periodo di tempo chiamato ciclo di fatturazione per impostazione predefinita i cicli di fatturazione sono impostati su base giornaliera il che significa che i pagamenti avvengono su base giornaliera scegli il periodo corrispondente al report quindi clicca su scarica verrà scaricato un file txt apri il file e copia il testo quindi incolla lo in un nuovo foglio excel clicca sulla scheda dati quindi clicca su testo in colonne seleziona delimitato in tipo dati originali quindi clicca su avanti seleziona virgola quindi clicca su avanti clicca su fine il tuo report sui pagamenti è ora leggibile il report sui pagamenti può aiutarti a comprendere le vendite i rimborsi le spese e le conversioni in denaro nonché il tipo di transazione il tipo di pagamento il tipo di ordine e altre informazioni per ogni transazione avvenuta nel periodo selezionato grazie per l'attenzione consulta gli altri video per ulteriori informazioni su amazon pay l'attenzione consulta gli altri video per ulteriori informazioni su